buongiorno un altro nuovo video oggi l'altro nuovo video dove stiamo un'altra volta insieme l'altro insieme anzi un'altra volta insieme e niente questo è un video per parlare un po con voi ma anche per fare un po di cose insieme e niente non so quanto durerà questo video però ci tenevo a farvi compagnia sempre si va ok un po gioco grazie 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 mi ho fatto il letto grazie mi ho fatto il letto adesso sistemo il mio pigiama perchè altrimenti do un po' disultimata la mia camera ho messo il pigiama sopra sotto al cuscino dove dormo io e niente e adesso che ne dite che andiamo a lavare i piatti dai qua è tutto a posto non so se si capisce qualcosa però si adesso andiamo a lavare i piatti sempre che non lo vede la parte che vanno i piatti non credo ok non so dove poggiarvi però qualche sistemazione la troverò qualche sistemazione non lo so niente io cosa e dove però la troverò qualche sistemazione cioè e niente questo lo metto di qua che è distrutto non lo so non ne ho idea aspettate un secondo si così ci state siete un po' messe così mi ha messo un po' strane però vabbè sperando che ci state sperando che state che il telefono rimanga così in posizione come allora per tempo mi lavo i piatti si non ne voglio me lo faccio ho il telefono finito ormai lo devo più perchè mi fa un po' schifo averlo così com'è ok possiamo mettere questo per per questo dentro che è meglio parlo della della lattina di tonno è meglio che lo come si dice che lo metto vedete è qui all'angolo della dell'appello ho un debito al rimetaglio non so mai madonna quanta roba c'è utile lavare è una cosa che mi piace questa lavare si ci sono rimaste da tutti il cappello ok ciao è è è è questo è stagli sgoccioli ragazzi dicevo questo stagli sgoccioli quindi lo voglio utilizzare è 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 là si faccia tutto spazio, intanto mi fate compagnia e così io posso lavare, ok? Qua mi do una bella mossa a lavare i piatti, si fa veramente troppo tanti. Questa è la crema e la bocca, se fa veramente troppo tanti. Grazie. 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 Speriamo ce la faccio per tutte queste cose prima che viene lei, mia nonna. Non lo so, non ne ho idea. Boh. Grazie. un'altra tazzina da pulire come al solito va bene può davvero spazzare e forse anche spolverare non lo so quello mi sa che lo rimanda lo scoprò o forse no si vedrà si vedrà si vedrà mi sono impegnata a cuirlo o c'è altra? no non c'è altra sono curiosa io allora qui c'è della matrica è questa però è questa è la matrica 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 è un peccato è un peccato è un peccato buttare le cose però che si può fare se mi erano non se l'hanno giato non deve buttarcelo non è per niente colpa mia però anche lei che sprechi mi fa tante volte io glielo dico ma lei è testata va bene si può poterlo questo cos'è da buttare sentiamo la poliera tutta la poliera 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 con l'acciaio si vince si vince alla grande lo sporco si, ce ne ancora? no, perchè l'acciaio lo vince per esforzizia ok, altro circuito? no, devo ponere solo questo straccio guarda, guarda, è una bella mossa allora, qua devo pulire tutto qua attorno tutto qui ho fatto un bello macello io non miro lì dentro ok, questo qui ora ponisco l'angolo cotubra ora qua prima se la fanno spazzia qui qua sopra, ok questo qua guarda, aspettate, non mi vedete vi porto di là di là vi porto eccomi qua vi vedete? non credo no, non credo che vi vedete ops vabbè, vabbè fate che vi vedete lo stesso sto prendendo la cottura i fuochi sto prendendo qua c'è parecchia sporcizia ho visto qua poi mi anneggia che non è sporca mai me ne accorgo che non è sporca mai in casi estremi in casi rari non è estremi in casi rari non è sporca mai ma qui ho sporcato alla grande quindi mi tocca la pulizia e va bene dai, non ci lamentiamo con le armi ok, bene ho quasi terminato la pulizia che bene ok che sporcizia che c'era è che c'era tutt'ora questa roba che vedo qui non la sopporto questa sporcizia che c'era sporcizia non ce la deve stare da nessuna parte da nessuna parte ok scusate la parolaccia però era inevitabile mi è cascata un fuoco si è riuscita a metterlo non sono arrabbiata mi è preoccupato di fretta ma ogni tanto mi casca la parolaccia non l'ho fatta apposta perdono non lo dico più se riesco perché sono di quelle che prometto che non riesce si va bene ciaone ci deve riuscire a non dire parolaccia se no youtube mi castiglia bene mi castiga bene allora vediamo un po' sono riuscita qui a pulire spero di si a parte ce l'ho fatta pulire si diciamo di si era troppo zozzo per i miei gusti ok bene ora mi toccate di mettere questi questi e perfetto più o meno non ho usato nessun detergente niente pulito con lo straccio bagnate stop ok ora vi rimetto in un punto dove se no mi casca qua il telefono vi rimetto in un punto dove vedete tutto più o meno va bene mi tocca di mettere qualcosa qui per farmi ora che non cadete ok così va bene sto prendendo la tavola ragazzi miei sto prendendo la tavola le spucca qui 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 qua c'è altro no c'è solo la tozzeria perché non c'è ok ok allora ora vi sistemo di qui vi sistemo qua su qua giù cioè non so neanche dovevi mettere il biciclete vabbè vi metto di qua intanto qua sistemo tutto e le prenderanno su la scondetta qua l'ho scelta la matriga come dice mia mamma vabbè non importa l'ho scelta l'ho scelta la matriga cinto è questa che cosa cando lo sono ma come c'è solo l'ho scelta qua non è tutto perfetto non vogliono far vedere certi video che la fase museo non è per nulla qua a posto l'arriere come qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Non lo so quando sarà, però vi prometto che riuscirò a fare altri video, ok? Ciao ragazze, mettete un pollicello in su, commentate, iscrivetevi, mettete la campanella e ricordate di passare anche dal mio profilo Instagram e TikTok. Ciao, sono anche su TikTok ovviamente, ciao.